amici della fraschetta buongiorno stiamo a fare il guanciale per la carbonara guarda come fa il guanciale andiamo a colare la pasta dentro a sto ben di dio eh quasi la mentono una bella spadellata pizzico di pepe se ci sta male corberata di pecorino e te la maniare e fingarà ma che gli vuoi dire? certo amici della fraschetta buon appetito